Signore Padre Santo, Onnipotente e Misericordioso, Ti prego di mandare il Tuo Santo Spirito sopra ciascuno di noi. Ti prego Signore in questo momento di intervenire con potenza nella nostra vita. Vieni Signore, Padre, Abba, manda il Tuo Spirito per il nome di Gesù. Manda il Tuo Spirito su di noi per il nome del Tuo Figlio Gesù. Ti prego, Signore Gesù, di venire a risanare tutte le infermità fisiche e spirituali di questi Tuoi figli. Ti prego, Signore, di guarire tutte le ferite interiori. Ti prego di spezzare tutte le catene nell'albero genealogico della generazione paterna e materna. Signore, guarisci tutte le ferite nel grembo materno. Per tutte quelle volte che nel grembo materno, Signore, non ci siamo sentiti accettati, amati dai nostri genitori, accolti. Per tutte quelle volte che non abbiamo sentito il calore e l'affetto di chi ci stava accanto. Per tutte quelle volte che non abbiamo sentito l'accoglienza di nostra madre e di nostro padre. Guarisci, Signore Gesù, tutte le ferite nei primi anni di vita. Le ferite di violenze subite, Signore. Violenze fisiche, spirituali, psicologiche, morali. Guarisci, Signore Gesù, ogni ferita profonda del nostro cuore, dei nostri ricordi, ogni trauma. Per tutte le volte che abbiamo perso una persona cara, che ci siamo sentiti abbandonati, che ci siamo sentiti rifiutati e emarginati. Guarisci, Signore, ogni ferita di peccato. Guarisci ogni ferita di peccato, Signore. Gesù, Tu sei davanti a noi in questo momento. Tu sei davanti a noi con la Tua maestà divina, Signore. E oggi vogliamo mettere tutte le nostre infermità ai Tuoi piedi. Ognuno di noi in questo momento metta il suo peccato ai piedi di Gesù. Il tuo peccato di aborto, di adulterio, di fornicazione, di calunnia, di giudizio, di menzogna, di tradimento, di ribellione, di profanazione, di bestemmia. Metti ogni peccato della Tua vita ai piedi di Gesù, ai piedi della Sua maestà divina. Gesù non ti guarda con occhi di giudizio, ma con occhi di misericordia, di amore, di tenerezza. Gesù ti dice, non temere. Non avere paura. Non ti spaventino i Tuoi peccati. Non ti spaventino i peccati della Tua vita, della vita passata, della vita presente. Io ho distrutto i Tuoi peccati con il mio sangue. Io ti ho perdonato. Io ti amo. Io ti amo come sei. Signore Gesù, guarisci questi Tuoi figli nel corpo, nella carne. Libera la loro mente da ogni pensiero negativo. Emetti pensieri di pace, pensieri di Te, Signore. Guarisci da ogni infermità, alla testa, agli occhi, alla gola, al cuore, ai polmoni. Guarisci per le Tue sante piaghe sanguinanti. Da ogni malattia e infermità allo stomaco, ai reni, alla colonna vertebrale, al colmo, al fegato. Guarisci questi Tuoi figli da ogni malattia e infermità, alle ossa, alle braccia, alle mani, alle gambe, alle ginocchia, alle caviglie, alla pelle, al sistema nervoso, ai muscoli. Guarisci ogni parte del corpo di questi Tuoi figli per il Tuo santo spirito. E nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, siate guariti e liberati da ogni male e da ogni infermità. E ricevete ora la Sua pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén.